Fervono i preparativi per la nuova edizione del torneo internazionale di tennis. Intanto, in una nota, gli organizzatori fanno sapere che il Tennis Club ringrazia il comune di Caltanissetta per il contributo di 25.000 euro predisposto dall'assessorato comunale allo sport e dopo una profonda e attenta riflessione ha deciso di rinunciare all'ulteriore contributo di 25.000 euro che era stato offerto dall'assessorato allo sviluppo economico. Nella stessa nota si legge, ci auguriamo che questo nostro piccolo gesto sia un contributo fattivo alla rinascita della città.